In un momento come questo, in cui il futuro sembra incerto, voi invece proponete ai giovani studenti spezzini di progettare un futuro diverso e soprattutto bello? Sì, noi abbiamo pensato a questa iniziativa che consiste in un bando di concorso che premia i primi tre classificati delle classi terze, quarte e superiori relativamente a un tema importante e bello come la nuova idea di città che possono avere questi ragazzi in una prospettiva di post-Covid. Tenendo presenti alcuni concetti di fondo importanti che sono l'inclusione sociale, la bellezza della città, l'incremento demografico, gli spazi, l'idea di città in post-Covid. Sono argomenti che in qualche modo oggi sono attuali anche per quello che stiamo vivendo perché traguardano il futuro, un futuro che allo stato attuale sembra quasi compromesso nella prospettiva di ottimismo. Però questo ci dà un'opportunità che offriamo ai ragazzi di poter immaginare il loro futuro attraverso un'azione di responsabilità per cui incidere nelle scelte della città che poi vivranno e che poi saranno destinati non solo a vivere ma anche a governare e a gestire. È necessario che noi di questa generazione ci apriamo all'ascolto. Ecco, noi abbiamo costruito, ereditandolo dalle generazioni precedenti, questo mondo con tutte le sue cose belle e tutte le sue storture. E quindi adesso è il momento di aprirci all'ascolto, di sentire che cose i giovani hanno da dirci per lo sviluppo di questa città, del territorio. E io sono sicuro che ci sarà una risposta di partecipazione ampia e propositiva. Perché sento che i ragazzi hanno delle idee e hanno bisogno di esprimerle e sono capaci appunto anche di analisi attente, analisi magari a volte anche spietate, franche, sincere, che possono mettere in crisi noi adulti.